Pallarin e Maroso Il tiro di Rebuzzi, deviato da Castigliano, inisce a destra e Lucentini lo converte in gol. La frontaleazione del Torino provoca un cascatone a tre. Bonetti, Menti e Coscia. Adesso è Buongiorni che costringe Bonetti a tuffarsi nella segatura. Ed ecco il gol della vittoria sul centro di Gabetto, Loi assegnato di tempo.